Buonasera a tutti e benvenuti la serata inclusiva del primo torneo Città di Latina si affronteranno adesso le squadre di Piazza del Quadrato contro il villaggio Trieste spendendo due parole per il torneo è stato un torneo creato in 20 giorni grazie all'impegno dei ragazzi dell'Antares Global Team Egidio Intermite, Alessio Intermite e Domenico Capozzi un torneo messo in piedi grazie al padrocino dell'Atina Calciacinque e con il fondamentale ausilio dell'IPD associazione italiana Persone Down e l'associazione Lughetto per sempre Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti